«Occorre rafforzare decisamente le risorse dedicate ai ristori che verranno riconosciuti ad imprese e partite IVA a fronte delle perdite di fatturato medio-mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019». Queste le parole con le quali esordisce in una nota l'Afconf Commercio Molise, che entra decisamente in merito, sottolineando come il provvedimento assunto dal Consiglio dei Ministri. Stanzia infatti per tali interventi circa 11 miliardi sui 32 complessivi mobilitati dal decreto. Ma la platea degli interessati è nell'ordine dei 3 milioni di soggetti e le imprese si trovano a fronteggiare l'impatto di una picchiata della spesa per consumi nel 2020 prossima ai 130 miliardi di euro. Servono ristori più adeguati in termini di risorse, più inclusivi in termini di parametri d'accesso, più tempestivi in termini di meccanismi operativi. Da questo concetto deriva il commento della direttrice della Conf Commercio Molise Irene Tartaglia, che scrive che a conti fatti il decreto sostegni conferma la mancanza di risorse economiche necessarie per poter indennizzare completamente gli imprenditori per la perdita economica che hanno subito e che purtroppo continuano a subire a causa della pandemia. Afferma ancora che le uniche soluzioni sono quelle che dovrebbero portare alla riapertura immediata delle attività economiche che hanno dimostrato che si può continuare a lavorare in sicurezza, a fronte anche di una decisiva accelerazione della campagna vaccinale sull'intero territorio nazionale.